Garantire la diffusione della cultura del vaccino a tutte le famiglie, questo l'impegno dei pediatri italiani anche in seguito al calo di attenzione sul tema registrato negli ultimi tempi con la vicenda del virus H1N1. In questo quadro il calendario vaccinale proposto dalle sigle dell'assistenza primaria in Italia è un'agenda assistenziale importante perché continuamente aggiornata e quindi dinamica, come ha sottolineato Giuseppe Mele, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri. Eppure, nonostante il tanto lavoro compiuto su questo fronte, la cultura della vaccinazione spesso stenta ad affermarsi persino presso gli strati più istruiti della popolazione. E' quanto mostra per esempio una ricerca condotta sulle cause del rifiuto dell'offerta vaccinale in Veneto, unica regione ad aver sospeso l'obbligo vaccinale, pubblicata dal Centro di Epidemiologia e Sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità. Dall'indagine emerge infatti che anche fra i genitori con un livello di istruzione più elevato persistono alcuni pregiudizi nei confronti della vaccinazione dei figli. Un dato preoccupante che dimostra la necessità di un impegno costante per promuovere quello che ancora oggi è il principale strumento di prevenzione per molte malattie.